Pamela Prati Pamela Prati, faccio il tifo per Jeremias al GFV Anche Pamela Prati va pazza per Jeremias Rodriguez? È il fratello di Belen la vera rivelazione di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Raggiunta dalle nostre telecamere alla Milano Fashion Week, l'ex diva del bagaglino ha confessato di guardare con piacere la seconda edizione del Grande Fratello Vip e di apprezzare molto il lavoro svolto anche quest'anno da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. Geremias Rodriguez è la sorpresa del Grande Fratello Vip. L'endorsement vero e proprio è tutto per Geremias Rodriguez. Sto guardando molto il Vip, bravi Alfonso, brava Lari e brava tutti. Mi ha sorpreso davvero Geremias, molto tenero. Mi ha stupito in modo positivo, tenero e sensibile, veramente una scoperta. Pamela Prati ha anche precisato che non eliminerebbe nessuno dal Vip perché dopo sole due puntate per lei è ancora presto a dare giudizi. Pamela è il primo Vip. Questo il grido di battaglia, la frase diventata tormentone appena la subretta è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, nella scorsa edizione. Le sue bizze, il suo modo di fare l'hanno resa una delle grandi protagoniste della scorsa edizione ed è per questo che è diventata un autorevole opinionista a riguardo. Certo, non ha saputo resistere alle privazioni e alle dinamiche all'interno della casa, ma di certo è riuscita a lasciare un segno in quell'avventura televisiva. Ciao!